Che cos'è? Cosa vedi? Vedo quello che c'è dall'altra parte, vedo i defunti, comunico con le persone che sono dall'altra parte, non importa se uno non ci crede, perché io ho tanta gente che viene da me e non ci crede, poi va via convinta, perché non è che io convinco le persone, anzi io dico sempre aspettate il momento giusto, quando siete pronti, quando uno ha bisogno, deve sentire, altrimenti forzare le cose non va mai bene.